Salmo 45, versetto 4, avanza maestoso sul carro, per la causa della verità, della clemenza e della giustizia, la tua destra compia cose tremende. Dal punto dove siamo arrivati noi dobbiamo proseguire, andare avanti, mai fare un passo indietro per ciò che riguarda l'opera di Dio, le cose di Dio, le profondità di Dio. Alcune volte siamo portati a rallentare, forse perché qualcuno ha usato della maldicenza contro di noi e siamo rattristati e ci poniamo delle domande. Forse perché quando abbiamo perdonato poi siamo stati trattati peggio di prima, forse perché abbiamo subito delle ingiustizie e invece di andare avanti queste cose ci possono fare rallentare, portando dentro al nostro cuore delusione. Ma non deve essere così perché il carro di Cristo avanza e il Signore non si è fatto fermare dalla delusione ricevuta dal tradimento di Giuda, ma ha portato a compimento tutto ciò che doveva essere fatto. Prendiamo le forze e compiamo cose tremende nel nome del Signore partendo dal nostro cuore, sconfiggendo tutto ciò che ci circonda perché il nostro cuore sia libero, perdonato dalla presenza di Dio e dal suo sangue, ma che sia libero anche di poterlo lodare e annunciare senza farsi influenzare da tutto ciò che ci circonda. Saliamo nuovamente con nuove forze sul carro di Dio. Il Signore ci benedica.